Ok ragazzi, eccoci con l'analisi di Venom The Last Dance Dopo la reaction ragazzi ho rivisto un po' il trailer e devo dire che sembra veramente un bel casino C'è un bordello di roba, cose che sicuramente non spiegheranno, cose che non avranno senso Cose che magari neanche ci saranno nel film ragazzi, preparatevi perché queste scammate la Sony le ha già fatte E niente, partiamo subito con un po' di screen, con questo che mostra un Venom anche abbastanza bello dal punto di vista della CGI Però vedo un po' più di problemi quando i personaggi sono in movimento Ma alla fine ragazzi, in questo film, in questa trilogia, la CGI è sempre stato l'ultimo dei problemi ragazzi Ma magari questi film avessero avuto solo gli effetti speciali come problemi Sarebbe stato veramente un male minore Comunque passiamo subito a un'immagine che ha fatto discutere e che farà sicuramente discutere anche dopo il film Ovvero la scena di Spider-Man New Way Home buttata totalmente a caso nel trailer Perché dico a caso? Dico a caso ragazzi perché questo film dovrebbe in teoria essere tutto all'interno del Sony Spider-Man Universe Quindi non dell'MCU ragazzi perché questi film non collaborano con l'MCU per insomma portare avanti la trama Quindi perché c'è la scena del simbionte, il pezzizio del simbionte che rimane dell'MCU Che viene raccolto da sto tizio che tra l'altro nell'MCU interpreta Mordo Che ha interpretato Mordo, ve lo ricordate ragazzi? Ecco qui un'immagine per darvi un attimo riferimento E secondo me ragazzi hanno fatto un po' una retconata Cioè hanno cambiato il tutto e hanno messo questa scena nel contesto del Sony Spider-Man Universe Nonostante il tizio qui il barrista in New Way Home citava Hulk che è dell'MCU Io boh ragazzi veramente, poi si dobbiamo vedere il film, magari il film spiegherà tutto Secondo me no ragazzi perché secondo me Kevin Feige neanche sa che la Sony ha fatto sta roba Non ne sa veramente niente e quindi boh a questo punto niente simbionte per Tom Holland Forse il simbionte per Tom Holland arriverà in qualche altro modo? Non lo so ragazzi, questa scena rovina completamente tutto, crea un casino che Cioè già i film del Sony Spider-Man Universe creavano casino Adesso ancora di più, cioè è veramente una roba che è allucinante ragazzi Non so ragazzi, non so veramente come la spiegheranno ma vedremo Poi qui abbiamo un simbionte ragazzi, un simbionte particolare, un po' mostro Che forse è una delle poche cose interessanti di questo trailer no? Perché finalmente vediamo delle creature un po' diverse dal solito Non i soliti simbionti con un colore diverso da Venom e basta Come Carnage e Riot ma sicuramente vedremo qualcun altro tipo Toxin e Scream Ma ci arriviamo tra poco E andando avanti, eccolo qui ragazzi, questo è Toxin, è confermato da i sottotitoli del trailer insomma in lingua originale Che appunto mette Toxin all'interno dei sottotitoli confermando che lui è diventato Toxin Ma questo si era capito già da insomma i rumor che abbiamo sentito nei scorsi mesi Poi andiamo avanti, bellissimo questo Eddie Brock, sempre molto ubriaco, fantastico Comunque effetti speciali ragazzi che a volte sì, a volte no, sono un po' altalenanti per esempio Qui con la testa di Eddie a metà, sì e no, sì e no Certo forse sono un po' meglio del secondo film, forse un po' meglio sono Però ripeto è l'ultimo dei problemi Ma andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti perché ci sono altre cose interessanti Ecco per esempio questa sarà all'interno del film della dottoressa Payne Che immagino sarà un altro simbionte visto che mi sembra avere un po' lo stesso ruolo che aveva il personaggio lì Che poi è diventato Riot nel primo film, non mi ricordo neanche più come si chiama Questo infatti ragazzi se vedete questo simbionte ha un po' i colori effettivamente di Scream Personaggio che tra l'altro abbiamo visto anche non molto tempo fa nel gioco di Marvel's Spider-Man 2 Tanto per insomma ricordarcelo E questo ecco di nuovo il pezzettino di simbionte di Spider-Man No Way Home Che ripeto a questo punto non si collega più all'MCU L'hanno completamente scollegato, hanno fatto un casino Non si sa ragazzi, forse c'è il multiverso ancora una volta all'interno di The Last Dance Ma non lo so, voglio dire non c'è Strange Ma non ci sono neanche personaggi che dovrebbero collegare questo film al multiverso Quindi perché? Non si spiega ragazzi, non si spiega per nulla Qui abbiamo Eddie Brock in versione Nathan Drake Boh, una scena un po' a lanciarte dei ragazzi E poi qui abbiamo il trash del trash La signora Chang che balla con Venom Io veramente ragazzi non ho parole Non ho parole Io scherzavo nei video quando dicevo che avrebbero ballato Cioè che avrebbero fatto ballare Venom Boh, ditemi voi se è normale sta roba veramente Io non lo so, non lo so Qui vediamo insomma i simbionti che arrivano dal pianeta di Venom Lo dice anche lui nel trailer Questa ripeto è l'unica cosa che sembra interessante Ma poi bisogna vedere come la gestiscono ragazzi Perché se la gestiscono con i piedi come l'ha sempre fatto Risulta completamente inutile Cioè vedi sono belli questi mostri, questi simbionti un po' diversi dal solito È interessante Ma sono sicuro che non la gestiranno come dovrebbero E quindi sarà sicuramente un peccato, uno spreco Poi ragazzi abbiamo questa roba qui che nel trailer non ci ho fatto caso Anche perché è vestito in maniera diversa dal solito Ma c'è l'attore di Lizard Cioè il Dr. Connors all'interno di questo film Che ci fa lì? Che ci fa nel Sony Spider-Man Universe? Venom è collegato a The Amazing Spider-Man? Però effettivamente se ci pensiamo L'hanno già fatta questa roba a caso Perché hanno messo già l'avvoltoio all'interno del film di Morbius Che non c'entrava niente Probabilmente è successa la stessa identica cosa con Lizard Che è andato a finire nel mondo di Venom Boh, forse così pian piano formeranno i Sinistri 6 Forse serve a questo Però come c'è andato lì? Boh, ragazzi non si trova nulla Non riesco a dare una spiegazione a nulla Perché sono sicuro che poi non lo faranno manco loro Quindi resterà una cosa buttata a caso sicuramente Inutile stare qui a fare collegamenti Anzi magari lui neanche si vedrà più nel film Magari l'hanno buttata a caso Perché ripeto sono cose che hanno già fatto Non mi stupirebbe Qui poi abbiamo ragazzi il cavallo venomizzato Che molti la ritengono un po' una scena abbastanza figa Potrebbe anche esserlo ragazzi E potrebbe anche essere una scena figa Ma durerà due secondi e poi passeremo ad altro Non createvi troppo aspettative Ci sarà sicuramente una cosa molto passeggera Che non durerà moltissimo E infine ragazzi Eccoci qui con una roba che potrebbe far discutere moltissimo E parliamo di questi personaggi Ovvero la possibile May Parker Mary Parker E Peter Parker Che andrebbe a collegarsi con la trama che abbiamo sentito in questi giorni Con Venom che magari dovrà proteggere effettivamente Questo piccolo Peter Parker Anche se dal trailer non sembra essere questa la trama Però chi sono queste tre? Come mai c'è un bambino Una ragazza abbastanza giovane Una Su una certa età Che sembra proprio sia May Lei potrebbe essere Mary Parker Lui Peter Parker il bambino E ragazzi Secondo me Magari i rumor Non hanno capito benissimo la trama Ma probabilmente Peter bambino In tutto questo Qualcosa c'entra E alla fine magari ci sarà Perché alla fine hanno fatto Un Peter Parker Che doveva nascere in Madame Web Probabilmente faranno un Peter Parker bambino Così magari giusto per citarlo Giusto per buttarcelo in mezzo Come al solito Ma chiaramente Senza senso Ripeto Non fatevi illusioni Non iniziate a fare collegamenti strambi Sarà tutto Buttato A caso Abbiamo imparato la lezione ragazzi Io direi che a questo punto Non c'è più da stupirsi Poi oh Se il film non riescono a fare in maniera più sensata Rispetto al passato Benvenga Però ragazzi Non possiamo dire che non siamo pronti Non possiamo dire che non siamo pronti Dopo tutti questi anni A dei film che ci mostrano Con dei trailer Abbastanza ingannevoli Con collegamenti Che poi non si collegano a niente E tanta roba buttata a caso Lo sappiamo ragazzi Lo sappiamo Siamo Siamo abituati Punto Questo Questo è il discorso Vediamo il prossimo trailer Se ci dice qualcosa di più Sulla trama Adesso sicuramente Dovremmo aspettare qualche altro mesetto Ma non è che c'è fretta ragazzi Non c'è hype Non c'è nulla Questo trailer mi è completamente scivolato addosso Ci sono anche le solite battute di Venom orribili Che non fanno ridere Insomma ci sono i soliti elementi Dei film di Venom Dei film della Sony degli ultimi anni Nulla di nuovo ragazzi Nulla di nuovo Il solito trailer Che a tratti sembra anche bellino Collegamenti Che poi ripeto Non portano a niente Ragazzi Ci sono tutti I soliti elementi Visti Con gli altri film Quindi Non mi stupisce veramente Nulla di nulla Detto questo Chiedo a voi Chiedo a voi cosa ne pensate Ho visto qualcuno in hype Però ragazzi Ne ho visti veramente pochi Cioè Pochissimi commenti Ne ho detto Sembra bellino Tutti Sono Spaventati Tutti Si aspettano qualcosa di brutto Perché purtroppo La Sony ci è abituati a questo Non possiamo più Alzare le aspettative Non possiamo più avere Aspettative A prescindere Perché È impossibile La qualità È scadente Purtroppo ragazzi La situazione è questa E speriamo che Prima o poi cambi Ma Boh Speriamo con le serie Più che altro Perché le serie Sono ancora un campo Da esplorare Ma per i film Ragazzi ormai Veramente Mamma mia Che disastro Che casino Non torna niente Tutto fatto veramente Con lo sputo È assurdo È assurdo Comunque Ragazzi Ditemi la vostra Come sempre Se avete notato Qualche altro dettaglio Ma ripeto Qui i dettagli Non fanno la differenza Non servono a niente Però Sono comunque curioso Di sapere la vostra E di sapere un po' Cosa ne pensate E cosa avete notato Noi ci vediamo con un altro video Mi raccomando ragazzi Seguitemi in questi giorni Perché ci saranno Molte live Per quanto riguarda Gli eventi Showcase dei giochi Summer Game Fest Xbox Showcase Ubisoft Mi raccomando Seguiti il canale Vi aggiornerò Con tutti gli orari Insomma In questa settimana E vi aspetto Insomma per seguire Quella roba Che è molto più interessante Di questa Sicuramente Quindi vi saluto Iscrivetevi E ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti